pronto pronto maresciallo mi fa senso c'è una cosa importante da dire sì 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 non lo so sono agitato perché piano piano che non si capisce niente ma chi sei ma devo parlare piano che non si capisce maresciallo mi scusi so che quel numero sotto e privato non dovrei chiamarla ma we we brigadiere rispettiamo i ruoli e brigadieri che differenza c'è fra brigadieri maresciallo non confondiamo la lana con la seta ma basta che qual è la lana quella è la seta e ci pensi pure il brigadiere tutto un altro livello il maresciallo è basso livello comunque che vu a mare brigadieri abbia pazienza sono entrati in casa l'africa mi hanno rubato tutto oro gioielli il portafoglio la maglietta vedo che sono nudo tu azz e questo è un fatto grave ma non va tutto è un macello ma brigadieri quindi immagino non avete le chiavi sì però ma non va tutto oro gioielli come ho detto prima però la cosa importante che mi hanno scassato la porta di ferro la porta di ferro gli ci fermo molto brigadieri sì ma da me che vu come che vu a lei brigadier se lei è il brigadier la maseta lei lo dovrebbe sapere ho bisogno di di aggiustare la porta se lei può venire a casa mia e dare una mano aggiustare e ma devi chiamare il fabbro non a me devo chiamare il fabbro ecco la differenza fra la vallana nella sede brigadier maresciallo bravo maresciallo brigadier bravo si si ma ci vado subito a fanculo si grazie maresciallo brigadier 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 ciao